Bene amici, oggi scopriamo insieme lo Starmar Sport 2 Cabin, un battello con una lunghezza fuoritutto di 11,35 metri e una larghezza di 3,50 metri con tubo a la rigonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separati dai motori, motori che in questo caso vedono una coppia di Suzuki DF300AP ma la motorizzazione massima arriva fino a una coppia da 425 cavalli ognuno. La larghezza delle plancette consente di passeggiare tranquillamente, di muoversi a bordo, qui all'interno c'è anche la scaletta di risalita integrata e quello che stiamo vedendo sulla plancetta di sinistra si trova specularmente anche su quella di dritta, in questo modo entrambe le zone possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra. C'è anche un comodo profilo per agevolare l'uscita dall'acqua mentre centralmente è prevista l'installazione di una pedana che permette quindi di passeggiare da un lato all'alto e al tempo stesso si può sollevare per consentire il tilt completo dei motori. Sulle mastri in vetroresina troviamo le gallocce per l'ormeggio mentre poco più avanti si trovano i tappi d'imbarco del serbatoio e l'accesso a bordo avviene preferenzialmente sulla sinistra con questo corridoio ricavato appunto dalla spalliera del divanetto di poppa, divanetto di poppa piuttosto generoso, guardate qui occupa l'intera larghezza interna del battello quindi comfort ai massimi livelli perché guardate quante persone possono stare qui comodamente sedute a rilassarsi. Inoltre l'intero divanetto è gavonato al suo interno, c'è un primo gavone centrale tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina mentre al di sotto delle sedute laterali ci sono altri due gavoni con due portelli separati indipendenti. In questo modo lo spazio estivaggio è assicurato e ovviamente è prevista l'installazione degli attuatori su ogni gavone presente a bordo. In più l'intero layout di poppa è modulare, in questo caso vediamo il tavolino sollevato centralmente ma si può abbassare elettricalmente quindi avere un unico piano di calpestio libero da ingombri oppure sollevarlo all'altezza dei cuscini, ribaltare le due metà lateralmente e aggiungere un cuscino per avere un unico grande prendisore di poppa, guardate qui l'ampiezza è davvero incredibile per la sua categoria. In più ci sono queste maniglie tentibene in acciaio, guardate qui, realizzate dal cantiere che permette quindi di avere piena sicurezza a bordo perché riusciamo a sfruttare le mastre in vetoresina non solo per lo schienale ma anche per avere un appiglio in qualsiasi punto del divanetto. Divanetto di poppa che può estendersi ulteriormente grazie alla presenza dello schienale che si può ribaltare in altre due posizioni, in questo caso lo vediamo in posizione verticale ma può essere inclinato a 45 gradi o a 90 gradi e con l'aggiunta di un ulteriore cuscino aumentare ancora di più l'aria prendisole. Il blocco seduta è in vetoresina ed è centrale, qui alle spalle sollevando il portello vediamo che c'è la cucina esterna, quindi cucina con lavello e piano cottura ma l'intero layout è totalmente personalizzabile secondo le esigenze, mentre in basso c'è un comodissimo frigorifero a carrello quindi bevande sempre fresche a bordo e soprattutto di facile accessibilità dal momento che si trova praticamente qui in pozzetto. Inoltre ci sono anche le maniglie tintibene anche qui ai lati del blocco seduta che permettono quindi una salda presa in qualsiasi punto del battello si può avere un pieno supporto e quindi riusciamo a passeggiare agevolmente superando il gradino in basso e arrivare nell'area di comando. Postazione che vede in questo allestimento un divanetto biposto con schienale fisso e bolser separato in questo modo sia il comandante che il copilota possono scegliere la posizione che più preferiscono. Al centro non manca un comodo porta bicchiere mentre mettendomi al timone vedo che ho il timone appunto facilmente raggiungibile, nessun problema di ingombro con le ginocchia posso puntare i piedi sul gradino in basso che è strutturale con la console e vedo che ho tutto sotto controllo perché c'è il display multifunzione centrale, doppio quadrante fornito con i motori, lo stereo si trova qui sulla sinistra mentre gli interruttori on off sono disposti su due livelli qui in basso con sul lato di dritta il controller delle liga di proa. La doppia manetta di potenza è spostata sul lato di dritta mentre la bussola è ben visibile in alto e a proposito di visibilità guardate qui c'è il parabrezza che è inclinato quindi permette di avere una buona protezione al tempo stesso non sacrifica l'aerodinamica del battello e siamo anche ben protetti perché in questo avestimento c'è il T-top con luci led che quindi consentono di dare anche un'ottima illuminazione alla zona di poppa che offrono anche piena protezione al comandante quando si naviga. In basso non manca il portello stagno di ispezione per il motore del frigorifero mentre qui c'è un comodissimo portello vano porta oggetti dove lasciare all'asciutto gli oggetti con predisposizione di ingresso usb per caricare gli smartphone. Ci spostiamo verso prua guardate qui ci sono due gradini che permettono quindi di dare più spazio in cabina ma lo vedremo tra un attimo guardate la larghezza del passavanti che permette quindi di avere un buon supporto c'è la maniglia tinti bene che consente quindi di muoversi senza difficoltà perché vedete ci accompagna nel movimento verso prua e arriviamo quindi nell'area anteriore totalmente rivestita di cuscini quindi comodissima dedicata al relax con chaise longue posizionata nella porzione anteriore del castro a dare il massimo relax. Qui al di sotto del cuscino centrale c'è il passo duomo che permette quindi di dare areazione e luminosità in cabina mentre al di sotto del cuscino anteriore c'è il gavone dove è possibile stivare tutte le dotazioni di sicurezza al momento che è piuttosto profondo permette di arrivare praticamente in carena. Passeggiamo quindi nell'area di prua arriviamo sul musone musone con doppia inclinazione in questo modo è agevolata la salita e la discesa quando si ormeggia di prua e soprattutto qui c'è il portello che si può ribaltare verso poppa e dare accesso al vericello vericello quindi facilmente accessibile soprattutto ben monitorabile dalla plancia di comando in questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra. Completa la dotazione di prua la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro oltre alla presenza delle bocche di granchio dei passacima che permettono di non far sfregare le cime sui tubolari quando siamo all'ormeggio. Tubolare interamente realizzato in neoprene orca con maniglie tienti bene qui nella porzione centrale e guardate anche vi mostro la protezione dell'area di poppa perché qui abbiamo il piano di calpestio all'altezza del tubolare con questo rinforzo in vetroesina che ci permette di avere maggior protezione ma quando arriviamo in pozzetto vediamo che siamo sempre ben protetti in ogni punto perché guardate anche la massa in vetroesina quanto è generosa arriva alla metà della mia gamba. L'ingresso in cabina avviene sul lato sinistro della console con porta a scorrimento qui vi mostro anche la maniglia tienti bene che agevola l'accesso all'interno con doppio gradino per ridurre il dislivello. Sulla sinistra vediamo che subito c'è un mobiletto con doppia anta per stivare gli oggetti con anche porzione superiore con protezione qui abbiamo questo supporto in acciaio per evitare appunto che gli oggetti possano cadere a terra durante la navigazione. C'è l'oblò presente sul lato di sinistra ma soprattutto vi mostro l'altezza interna perché guardate qui altezza incredibile di un metro e ottantacinque in questa porzione superiore che non snatura l'estetica del battello e quindi permette la piena visibilità ma si va ad abbassare nella porzione anteriore perché segue il design della prua ma guardate quanta visibilità c'è qui quando sono seduto sul letto matrimoniale quindi vivibilità ai massimi livelli con anche il passo duomo presente in alto che assicura un ottimo ricircolo dell'aria. Vi mostro inoltre la presenza del bagno perché in questo battello c'è il bagno in cabina separata sul lato di dritta entrando vediamo che c'è questo dislivello per dare maggior protezione all'interno guardate qui il layout del bagno è configurato per non avere accessi ai contatti in questo modo è semplicissimo risciacquare anche l'intero vano interno possiamo utilizzare letteralmente la doccia col soffione presente qui quindi facilmente lavabile tutto il vano interno con il vc rivolto verso poppa la griglia con il carabottino di scuolo per la doccia mobiletto portoggetti e soprattutto lavello con relativo blu. Vi mostro anche qui l'altezza interna perché siamo al di sotto della console della plancia di comando ma riusciamo a stare perfettamente in piedi e quindi battello perfettamente vivibile per una coppia perché c'è il letto matrimoniale e il bagno in cabina separata ma c'è anche spazio al di sotto del piano di calpestio perché guardate la scala d'ingresso si può sollevare in questo modo guardate sistema molto comodo che permette quindi di accedere al di sotto del piano di calpestio e quindi avere o una piccola cucetta oppure un ulteriore ivano di stivaggio degli oggetti e quindi lasciare l'intera cabina libera da ingombri e quindi cari amici questo è lo star mar sport su cabin come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su the city team